Ricordati che Gesù portò su di sé il peso della croce. Non offendere il Signore con i tuoi peccati, non offendere il Signore con la tua incredulità, con il tuo comportamento malvagio. Non offendere Dio, ma chiedi a Lui il perdono e Lui ti perdonerà come dice la Bibbia. Alleluia, Lui farà di te una nuova persona perché Lui ti darà un cuore nuovo. Questa è l'opera dello Spirito. Non è una religione della Domenica, una messa, una statua, un idolo, ma è la potenza dell'Evangelo. Se tu credi vedrai la gloria di Dio, se tu credi vedrai un vero cambiamento nella tua vita. se tu credi, alleluia, Gesù ti libererà. Amen. Credilo, credilo. Amen. E sarai un discepolo, un uomo benedetto, una donna benedetta. Vogliamo insieme elevare una preghiera. Anche voi che siete lì, non vi vergognate di pregare il Signore. Vi voglio dire che gli uomini e le donne si devono vergognare di altre cose, cioè del peccato, di ubriacarsi. Le donne si devono vergognare di andare mezzanude in strada. Ci dobbiamo vergognare del peccato, del male, ma non di pregare Gesù. Amen. Alleluia. Perché Gesù è la gloria di Dio. Amen. E il re dei re. Amen. Credi, credi anche tu. Amen. Gesù è la gloria. Gesù è la dottoria. Noi ci dobbiamo vergognare del peccato. Non di parlare di Gesù. Non di adorare il Signore. E non di pregare. Tu che sei lì, digli con tutto il tuo cuore. Anche tu che ascolti lì, alleluia. Digni, Signore Gesù Cristo. Signore Gesù. Diglielo col cuore. Rivolgendoti a Lui direttamente. Ascolta, popolo di Bagheria. Guarda, ma tu che sei lì. Devi pregare Gesù. Non una statua morta. Non un pezzo di legno o di metallo. Una statua non ti risponderà mai. Ma Gesù vivente ti risponderà. Amén. Amén. Digni, Signore perdona. Signore fammi veramente capire la tua verità. Gesù cambia il mio cuore. Signore Gesù Cristo perdona i miei peccati. Perché ho fatto tanti peccati. Ma tu mi perdoni Gesù. Amén. Perché sei morto alla croce. Io credo. Amén. Dillo col cuore. Dillo. Non importa se ti vede l'amico, ti vede la persona. Cosa te ne importa? È Gesù che ti salva. Alleluia. Amén. L'uomo, l'amico, l'amica non ti danno niente. Ma Gesù ti dà tutto. Amén. Digni, Gesù perdona. Cambia la mia vita. Fammi vedere la tua luce. Io credo che sei morto alla croce per me. Fammi essere un tuo figlio, un tuo discepolo. E io ti seguirò perché tu sei la via, la verità e la vita. Amén. La mia salvezza, la mia speranza, la mia luce. Signore Gesù Cristo, grazie. Amén. La mia salvezza, la mia salvezza, la mia salvezza, la mia salvezza. Grazie per la visione!